In questo nuovissimo filmato, oggi video molto speciale, veramente sono onorata e felicissima di condividere questa gioia e ringrazio dal profondo del mio cuore la 100076, sto partecipando a questo contest, siamo 100 ragazze che vi vanno a recensire dei prodotti, quindi io vi faccio vedere un attimo in breve i prodotti e voglio anche dirvi un paio di notizie inerenti l'azienda, il marchio insomma, la 100076 è un brand completamente made in Italy, tutti i prodotti inerenti alla cosmetica, quindi la bellezza di noi donne quanto di noi uomini, veramente a 360 nel vero senso della parola, ho ricevuto questo pacco, eccolo qui ragazzi, vi andrò a recensire, a seguire di questa piccola introduzione, tutto quanto per bene appunto nelle clip illustrative, prende che qui in casa da me utilizziamo tantissimo, è ottimo, ha una qualità a prezzo veramente molto competitiva con tanti marchi che ci promettono chissà che cosa e poi dopo alla fin fine ci garantiscono ben poco, provare adesso i prodotti, all'azione vediamo che effetti ci donano, prima, il primo articolo che andiamo a vedere sul campo di battaglia è l'acqua micellare che compone di acqua di rosa e di camomilla, ci dona tre azioni in uno, deterge, strucca, idrata, possiamo struccarci viso, occhi e labbra, ideali per tutti i tipi di pelle, anche il risultato finale, i dischetti parlano, la mia pelle parla veramente, il secondo prodotto che andiamo a vedere non è altro che una mousse corpo molto idratante, delicata e che non unge, ci rende la pelle fin da subito morbida, seduosa e questa sensazione che ci perbade tutto il corpo avvolgendoci di orchidee e vaniglia, una profumazione veramente ottima e di un profumo pazzesco, la mousse corpo è da 100 ml, continuiamo con il Deo Body Spray Parfum, da 100 ml anche lui, si compone di una profumazione molto fresca, molto audace allo stesso tempo, data dalla fragranza al muschio bianco, si può utilizzare sul corpo e ovviamente nelle zone in cui si necessita. L'ultimo prodotto si tratta di una maschera a cuffia per capelli, si compone di cocco ed estratti naturali, ci dona effetti irratanti e setuosi, è senza risciacquo e con 15 minuti il gioco è fatto. Nell'utilizzo è molto semplice, basta lavare i capelli in precedenza con lo shampoo, tenerli raccolti e poi applicarla, gli setuosi morbidissimi, lucidissimi, veramente avvolgenti e pazzeschi. Io mi auguro che le clip, insomma che avete visto, siano state al massimo esplicative. A questo punto io vi saluto, vi mando un bacio immenso, un abbraccio fortissimo e come direbbe la 100076 fresca vitalità. Ciao!